Siglato in mattinata presso il Palazzo della provincia di Sernia un importante protocollo di collaborazione tra associazioni e comuni molisani sulla donazione degli organi. L'obiettivo dell'Anci Molise è quello di riconoscere il ruolo che i comuni, le associazioni, in particolare Aido e Aned e soprattutto i cittadini possono avere nel sensibilizzare tutta la popolazione sulla cultura della prevenzione e della donazione. I dettagli del protocollo sono stati illustrati dal presidente regionale Anci Pompilio Sciulli. La donazione degli organi è un tema molto importante anche alla luce della nuova normativa che impone adesso a tutti i cittadini nel momento del rinnovo della carta di identità di appunto dichiarare se vogliono donare i propri organi dagli a cent'anni o meno. È una cosa molto importante perché lo spirito sociale non deve essere mai perso di vista quando si amministra il volontariato. Io personalmente sono un donatore e credo nella bontà e soprattutto credo nell'efficienza del gesto della donazione perché una vita potrebbe salvare tantissime vite quindi un amministratore, un sindaco e i tantissimi consiglieri comunali devono assolutamente se non altro recepire questo protocollo, leggerlo attentamente e soprattutto farsi portavoce nei confronti della cittadinanza. Viva la soddisfazione anche delle associazioni presenti che hanno sottolineato come questo protocollo sia fondamentale per coinvolgere tutti i comuni. Fino ad oggi infatti non tutti avevano aderito alle campagne di sensibilizzazione. Nel Molise solo nei 55 comuni è possibile fare la scelta di dare il consenso alla donazione quando si rinnova la carta identità, negli altri comuni no. Quindi questo protocollo serve ad iniziare un percorso che ci vede coinvolti per far sì che tutti i cittadini molisani quando vanno a rinnovare la carta di identità possono dare il consenso alla donazione. Allarmanti i dati aggiornati delle adesioni alla donazione organi in tutti i comuni molisani diffusi durante la conferenza. Noi quest'anno abbiamo potuto fare 23 trapianti di rene al centro dell'Aquila chiaramente nella lista d'attesa a Bruzzese e Molisano che sono iscritti anche pazienti molisani e abbiamo fatto 7 trapianti di fegato in convenzione col Policlinico Gemelli. Cioè pazienti a Bruzzese e Molise si iscrivono presso di noi e poi il trapianto di fegato viene eseguito al Policlinico Gemelli. Quindi considerate che farne 23 su una lista d'attesa per Abruzzese e Molise superiore alle 150 persone non sono tantissimi e quello che appunto dispiace è che se 14 persone ci hanno detto di no capite bene che quanti trapianti abbiamo perso. Infine l'ANED ha voluto omaggiare l'assessore regionale Filomena Calenda per l'impegno profuso in questi anni in favore dei dializzati.